Grazie al grande successo che sta avendo la stampante 3D in tante scuole, stiamo lavorando anche una nuova versione di questa stampante che avrà delle caratteristiche aggiuntive rispetto a tutte quelle che abbiamo visto finora. Innanzitutto un ogello di 0,8 mm che grazie alla camera più lunga potrà continuare a mantenere la precisione di stampa che già abbiamo con questa stampante, quindi non compromettendo la resa del prodotto. Poi una velocità di stampa maggiore che permetterà di realizzare gli stessi oggetti in circa la metà del tempo di quello che richiedono tutte le stampanti praticamente in commercio oggi. Oltre a queste caratteristiche che si presenteranno con la stampante di fatto di base, abbiamo previsto poi tutta una serie di opzioni aggiuntive che ogni scuola potrà andare a selezionare in base alle proprie esigenze. Innanzitutto una cosa molto interessante dal punto di vista didattico, vale a dire il piatto magnetico all'interno dell'area di stampa. Cosa significa? In questo momento, quando vado ad utilizzare una stampante 3D, quando eserco la stampa e dovevo andare a rimuovere l'oggetto, devo utilizzare una paletta per staccarlo dal piano e quindi è un'operazione che normalmente sfogge l'insegnante. Con il piatto magnetico invece posso andare a rimuovere l'oggetto direttamente prendendolo dall'area di stampa e tirandolo fuori. Questo permette ai bambini di andare a prendere il loro oggetto, il loro prodotto, quello che hanno creato direttamente per conto loro e quindi permette loro di seguire veramente il progetto e la produzione e l'attività didattica dall'inizio alla fine senza bisogno di intervento dell'adulto ma solo con il suo affiancamento. Quindi qualche modo di riappropriarsi della loro esperienza didattica e esperienza educativa. Un'altra opzione aggiuntiva che abbiamo pensato è un iniettore ad argilla che può essere aggiunto alla stampante e quindi mi permette di stampare appunto l'argilla stessa. Questo combinato a un piatto magnetico mi permette di andare a prendere quello che stango con l'argilla direttamente e direttamente con il piatto andarlo a mettere in un forno, usarete il forno per l'argilla nella vostra scuola senza dover eseguire passaggi intermedi. Un'altra caratteristica di questa stampante è la possibilità di integrare il software proprietario della stampante stessa con SugarCard. Il software sviluppato da Indire è rilasciato in forma totalmente gratuita e accessibile da tutti il 12 luglio 2017. Questo permette ovviamente di andare a integrare il software di modellazione in 3D fondamentalmente con quello che è il software vero e proprio che poi mi permette di trasformare quello che sono andata a realizzare e a disegnare in un prodotto adatto alla stampa. Proprio per questa caratteristica, per questa novità messa a disposizione da Indire, abbiamo sviluppato un'altra opzione possibile, integrabile con la nuova versione della stampante, che sarà una scheda Raspberry che all'interno presenta già lo SugarCard integrato e collegabile direttamente alla stampante 3D in modo molto semplice. Questo in termini pratici si traduce nella possibilità di non dover più dipendere da un computer esterno o da altre macchine ingombranti, ma di poter lavorare interamente, direttamente, grazie alla schiena proprio a Sferdi con il programma già inserito all'interno. Questa è la nostra Campus Sprint 3D. Ciao e buona stampa 3D a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti